La strage delle gomme Gli unici esenti, Marco, era 29 Puglia, 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 Puglia. Non dite parolacce! No, vedete, è l'universale... No, la pompa no. Ci 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 ci. scopo no con il cacchiccio no hai la jet tour, stagheri man prima luglio cosa? sentiamo il rumore del cacchiccio no hai la jet tour con il non cacchieri il rosso, si, ma su quello rosso ma noo, si ma noo, si Siamo in compagnia, ma no, è difficile. Chi ti dava una pompata? Che cosa fai? Mettiamo fine allo spettacolo pietoso, va? Le valli del terdoppio. Il libro nero. 8-9 forature in un giorno. La prossima volta bonifica del terdoppio. Ma fa un 25 in gira quel di Andre? Sì, sì. Sì, sì.